Salve, sono il presidente della gruppo Egeo, una società che ha 40 anni sul mercato, ci occupiamo di idrologia e settore ambiente, importiamo prodotti della Solist che è il leader mondiale per quanto riguarda prodotti per l'ecologia, l'ambiente, il recupero delle acque e il recupero dei siti contaminati. In questi 25 anni di rappresentanza della Solist abbiamo conseguito tanti successi, abbiamo esportato in tutto il mondo i loro prodotti e soprattutto nei paesi del terzo mondo come il Sudafrica, il Ruanda e altri quattro paesi molto importanti. Siamo specializzati nelle telemetrie, nella trasmissione dei dati e la connessione di questi dati con i siti web, per questo la gruppo Egeo ha quattro business line che si occupano verticalmente di questi settori come l'IT, web design e vendita e commercializzazione di prodotti per la geologia e geofisica. Un'altra branca molto importante è il settore del volo, quindi indagini dei siti contaminati o strutture dove è impossibile mandare un operatore. Noi siamo in grado di fornire prodotti volanti a quattro, otto motori con sessori a bordo per fare rilievi in aria. Sono sistemi complessi, anche molto costosi, in parecchi casi è necessario avere due operatori di cui uno si occupa della ripresa video e l'altro si occupa verticalmente del volo. Tutta questa tecnologia, come con la sua collega, sarà presentata il prossimo anno, sempre qua a Remtec, perché state studiando e noi vi supporteremo anche in questo, la possibilità di fare delle convention non solo accademiche, ma portare invece ventate di tecnologia sconosciute ai più. Grazie a tutti.